Dopo le audizioni a Roma, la Commissione parlamentare di inchiesta e comafie è venuta a constatare con mano il sito petrianese di Riceci in merito al controverso progetto di realizzazione della discarica. Il presidente della Commissione Jacopo Morrone è arrivato sul posto accompagnato dai deputati Emilio Borrelli, Marco Simiani, Rachele Silvestri e Dario Iaia. Il tutto attorniati da decine di persone da mesi schierate a difesa del luogo, dai comitati al sindaco di Petriano Fabrizioli. La Commissione ha motivato la visita come ulteriore elemento per far emergere chiarezza a fronte delle versioni contrastanti degli amministratori ascoltati, tant'è che sono state annunciate anche nuove audizioni. Marche Multiservizi coinvolta nella partita, ieri ha aperto alla Commissione anche le porte delle sue discariche di Casprete e Calucio. Nel sito tavugliese sono stati mostrati luoghi di smaltimento dei rifiuti non pericolosi con fritti in discarica, nonché l'innovativo impianto di osmosi inversa per il trattamento del percolato che evita la circolazione di camion e dunque la produzione di 192 tonnellate di CO2 l'anno. Ai parlamentari è stata illustrata anche l'attività di biomonitoraggio del progetto Ape Informa che fornisce un contributo sull'analisi del contesto ambientale dell'impianto. In discarica è stato collocato un apiario composto da cinque arnie che producono miele di qualità certificata. Anche a Calucio di Urbino sopraluoga l'impianto ad osmosi inverso per il trattamento del percolato e biogas per la produzione di energia elettrica oltre al biomonitoraggio delle api.